La disabilità è raccontata da chi la vive. È arrivato anche ad Arezzo un importante confronto su questo tema grazie alla presentazione del libro di Davide Faraone, presidente della Fondazione Autismo Italia e padre di Sara, giovane ragazza autistica. Come si fa ad imparare a guardare il mondo con gli occhi di questi ragazzi? Perché probabilmente ci aiuterebbe a tutta la società civile, ovviamente, prima di tutto al mondo politico, ma insomma chi deve un po' anche cambiare le regole? Ma intanto io sono stato fortunato da questo punto di vista, tra virgolette, perché sono padre di Sara, una ragazza autistica e quindi sono stato, tra virgolette, costretto a guardare con i suoi occhi. Non potevo permettermi superficialità, abbandoni, negligenze. Ho dovuto affrontare con profondità quello che prima invece magari avrei affrontato con superficialità, quello che accade normalmente a ognuno di noi. C'era un Davide prima della conoscenza dell'autismo, un Davide dopo. E quella profondità che mi ha fatto scoprire mia figlia mi è utile complessivamente nelle relazioni con tutti gli altri, perché se riesci a costruire relazioni difficili, poi quelle più semplici sembrano un gioco a ragazzi. L'incontro ha visto mettersi insieme quattro associazioni del territorio, Autismo Arezzo, Fondazione Riconoscersi, Crescere e Toscanabile. Si è parlato di disabilità dando voce a chi la realtà la vive tutti i giorni. Un'esperienza del genere ci fa tirar fuori forse il meglio di noi, nel senso che ci chiede amore e noi glielo diamo. Io per quanto mi riguarda mi ritengo fortunato. Lo spartiacque per queste famiglie che chiedono a gran voce una vera inclusione è il termine del ciclo scolastico. In Italia la risposta è quasi sempre un centro diurno, ma noi dicono le famiglie non la vogliamo accettare, i nostri figli possono essere inseriti in un percorso di vita anche lavorativo, le leggi non mancano. Naturalmente bisogna rispettare quello che nella Costituzione c'è scritto, nelle leggi dello Stato. Esiste una bellissima legge da 328 del 2000 che parla di presa in carico, dalla diagnosi fino al dopo di noi. Se facessimo diventare concreta quella legge, mettendoci dentro naturalmente le risorse, saremmo a posto. Il problema è che in questo paese molto spesso in gazzetta ufficiale c'è scritta una cosa, nella realtà c'è tutta un'altra storia. Manca la realtà dell'impresa, cioè le imprese ancora non sono totalmente pronte a fare il passo, manca un piccolo passo, un piccolo sforzo da parte delle imprese perché ci manca l'aggancio. Quindi noi da parte nostra, nel caso ad esempio nostro, abbiamo creato una cooperativa lavoro, ma se dall'altra parte poi non c'è l'impresa che ci fornisce lavoro o che ci prende poi i ragazzi, una volta che hanno fatto il tirocinio formativo, siamo fermi un'altra volta, quindi più di lì non si va. Il sistema tende a non ascoltare i diretti interessati, ma semplicemente a fare un ragionamento quasi economico oppure formale oppure burocratico. Quindi però dietro a quei numeri, dietro a quelle decisioni ci sono famiglie e ci sono poi bambini, ragazzi, uomini e donne.